In questo video vi portiamo in un viaggio attraverso gili avvincenti sviluppi degli episodi 86 al 90 della serie che tutti seguono con trepidazione. Ma prima di tuffarci in queste acque misteriose, una piccola richiesta. Se questo contenuto risuona con la vostra passione per la serie, regalateci un mi piace qui sotto. E se per qualche motivo non fate ancora parte della nostra famiglia digitale, iscrivetevi al canale. La vostra interazione è il carburante che alimenta la nostra dedizione a produrre sempre più contenuti come questo. Andando dritti al punto, nell'episodio 86 Alonso, con un occhio sempre più critico, scrutina ogni mossa di Manuel. Un recente incidente, ancora avvolto nella nebbia degli eventi non chiariti, ha portato Manuel a mostrarsi in una luce completamente diversa, avvicinandosi a Ximena con un affetto inspiegabile, considerando la sua storica avversione per lei. Questa metamorfosi non passa inosservata agli occhi di Alonso, che si ritrova a fare i conti con mille dubbi. Con il giorno delle nozze di Ximena, che si profila all'orizzonte, Cruz e la duchessa sono presi dalla frenesia dei preparativi. La loro attenzione sembra focalizzarsi ossessivamente sui dettagli più frivoli, dalla scelta del tessuto degli abiti al colore delle decorazioni. Questa maniacale attenzione al dettaglio estetico suscita l'irritazione di Catalina, che non riesce a trattenere il suo disgusto. L'ultimo colpo, per Catalina, è la scoperta della vendita di una spilla storica e di grande valore, appartenuta alla defunta moglie del Marchese de Lujan. Le ombre di un possibile intrigo si addensano nella mente di Catalina. Potrebbe esserci dietro un segreto ben celato? E cosa potrebbe avere a che fare Ximena con tutto ciò? L'atmosfera si carica di elettricità e tensione. I nodi vengono al pettine e Catalina, più determinata che mai a svelare la verità, si rivolge ad Alonso, sperando che il padre possa illuminare le oscure pieghe di questa intricata trama e chiamare la duchessa a rendere conto delle sue azioni. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Catalina, con la sua intuizione affinata, penetra attraverso le maschere e i veli di falsità indossati dalla sua matrigna. La sua capacità di vedere oltre la facciata porta una sensazione di urgenza nel suo cuore. Decide di affrontare il padre, cercando di convincerlo dell'importanza di prendere azioni concrete contro l'inganno e le manipolazioni della matrigna che stanno destabilizzando l'equilibrio familiare. Nel frattempo, in un angolo diverso della loro realtà, Curro si trova ad affrontare una delle sfide più significative della sua vita. L'approssimarsi della visita del suo mentore lo mette sotto pressione, ben consapevole dell'importanza cruciale di presentare buoni risultati negli esami. Questi non sono solo test per lui, ma la porta d'accesso a un futuro di successo e realizzazione. Tuttavia, quando cerca di condividere le sue ansie con suo padre, Lorenzo, si scontra con un muro di indifferenza. Lorenzo sembra essere consumato dai pensieri di beni materiali, fissando con voracità le potenziali ricchezze nascoste nel testamento del barone. La sua ambizione lo porta a mettere sotto pressione Cruz, minacciando di ricorrere a misure legali per assicurarsi una fetta più grande dell'eredità. E mentre l'atmosfera si carica di sospetti e tensioni, un altro mistero fa la sua comparsa nella tenuta. Candela, con il cuore che batte forte, apre una lettera anonima che sembra portare con sé le ombre di un passato che avrebbe voluto dimenticare. Anche se cerca di mantenere una calma esteriore, Lope, con il suo sesto senso, riconosce il crescente disagio di Candela. La donna tenta di sviare, minimizzando la lettera. Ma Gregorio, con la sua perspicacia innata, intuisce che ci sono segreti inespressi nascosti tra quelle righe. Ma in mezzo a queste complessità emerge una luce di comprensione e solidarietà. Pia, con il suo legame sincero e profondo con Candela, riesce a farle confidare un segreto intimo, la sua gravidanza. Questa rivelazione porta Gregorio a mostrare un lato di di sé inaspettato, diventando un pilastro di supporto e comprensione. Con questo intreccio di segreti e alleanze, la storia guadagna profondità, mentre nuove sfaccettature dei personaggi si rivelano, aumentando l'intrigo e la sospensa. Mentre Gregorio svela un lato di sé sorprendentemente tenero e comprensivo, Romulo si dimostra tutt'altro che compiaciuto da questa metamorfosi. Nutre dubbi su questa inaspettata svolta nel comportamento del maggiordomo, sentendo un crescente sospetto che sotto questa nuova facciata di gentilezza si cieli un secondo fine oscuro. In parallelo, Catalina è travolta da una tempesta emotiva. La tenuta è un vortice di frivolezze, mentre i preparativi per il matrimonio, ormai alle porte, avanzano. Catalina ha fissato la sua ultima speranza sulla possibilità che un aereo ricostruito possa risvegliare in Manuel i ricordi del suo passato e dell'amore che nutriva per lei. Ma, quando con trepidazione presenta l'aereo a Manuel, assistito da Iana, le sue speranze vengono miseramente infrante. La reazione di Manuel è l'opposto di ciò che Catalina aveva immaginato. Condivide il suo cuore spezzato con Iana, che rimane attonita e quasi incredula di fronte a questa sconcertante rivelazione. Maria, in un contesto parallelo, esprime le sue inquietudini a Iana, mettendo in dubbio l'autenticità delle informazioni fornite da Lope su Salvador. Sospetta che Lope possa aver tessuto una tela di menzogne per manipolarla. Ma Iana, con una fede inossidabile nella rettitudine di Lope, rifiuta questa teoria, fiduciosa nella genuinità dei sentimenti dell'uomo. Mentre la trama si infittisce, intrecciandosi in una rete di intrighi e misteri, l'episodio 87C catapulta in un crescendo di emozioni. L'apice della tensione si raggiunge con un'aspettativa carica di suspense. Catalina, con l'aiuto di Iana, spera che l'aereo appena restaurato possa essere la chiave per riacquistare il cuore e la mente di Manuel, impedendo così il suo imminente matrimonio con Ximena. Ma la realtà si rivela crudele. Al momento decisivo, nel laboratorio, la reazione di Manuel alla vista dell'aereo è uno schiaffo al viso di entrambe le donne. Declara, con una freddezza che lascia senza parole, che la sua passione per l'aviazione è un capitolo chiuso della sua vita. Questa ammissione, inaspettata e devastante, lascia Iana e Catalina sconfitte, immerse in un abisso di delusione e disperazione. Di fronte alla sconcertante realtà, Gianna non si permette di soccombere alla disperazione. Determinata, decide di confrontarsi direttamente con Manuel, con l'obiettivo di sondare le profondità del suo cuore e svelare i misteri che ora lo avvolgono. Tuttavia, la complessità della situazione aumenta e ogni tentativo di Gianna di raggiungere Manuel sembra sempre più vano. La sua cara amica, Maria, mosse da compassione e amicizia, decide di intervenire. Propone di organizzare un incontro tra i due, sperando che un confronto faccia luce sui turbamenti di Manuel. In mezzo a questo groviglio di emozioni, giunge una notizia che porta una ventata di felicità nella tenuta. Curro ha brillantemente superato i suoi esami. Gli abitanti della tenuta esplodono in festa e persino Simona, la cuoca, si mette all'opera per creare il dolce prediletto del giovane come celebrazione. Ma non tutto è gioia per Curro. La sua delusione è palpabile quando si rende conto che le attese congratulazioni da parte di suo padre, Lorenzo, non giungono. Lorenzo è infatti completamente assorbito dalla lettura del testamento del barone, in un palazzo lontano. Parallelamente, un altro dramma si delinea. Catalina, armata di determinazione, intende lanciare una sfida a Cruz. Riesce a convincere la baronessa di Azzara a prestarle la preziosa spilla che un tempo apparteneva a sua madre. Catalina pianifica di indossarla durante le nozze di Manuel, come segno di sfida e resistenza. Questo gesto audace di Catalina è una chiara provocazione che infiamma il temperamento già focoso di Cruz. Di fronte a tale affronto, Catalina non recede e sfida apertamente Cruz, promettendole che questo è soltanto l'inizio della sua vendetta. L'atmosfera tra le due è elettrica e il loro conflitto si intensifica rapidamente. Mentre questo vortice di tensioni cresce, Iana si rivolge a Lope, offrendo il suo sostegno. Vuole fare da tramite tra lui e Maria, visto che il loro rapporto si è incrinato a causa delle menzogne di Lope riguardanti Salvador. La trama si arricchisce così di ulteriori sfumature, con alleanze e attriti che nascono e si evolvono tra i protagonisti di questa affascinante vicenda. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Lope si trova in uno stato di crescente angoscia. Una lettera anonima destinata a Candela ha infiammato la situazione, iniettando nuovi misteri nella già intricata trama della tenuta. Ogni angolo sembra ribollire di tensione, mentre segreti oscuri vengono lentamente svelati, rendendo l'aria ancora più densa di aspettative e incertezze. Proprio quando si pensava che le cose non potessero diventare più complicate, un avvenimento agghiacciante si manifesta. Un uomo non identificato, con intenti non ancora chiari, si introduce nella lavanderia e si impossessa di un potente insetticida sintetico con potenziale letale. Questo gesto suscita innumerevoli interrogativi. Quali sono le sue reali intenzioni con tale veleno? Sta architettando un piano malvagio o si sta preparando per una rivelazione inaspettata che scuoterà l'intera trama. Questo intreccio misterioso ha avvolto gli spettatori in una spirale di suspense, aspettando con impazienza l'evoluzione della storia. Nell'episodio 88, il cuore di Jana viene spezzato in modo crudele. Dopo aver tanto sperato in un confronto significativo con Manuel, grazie all'intervento di Maria Fernandez, ha finalmente l'opportunità di parlargli faccia a faccia. Ma, nonostante le speranze e i desideri intensi di Jana, la reazione di Manuel è fredda e distante. L'amara verità diventa chiara. Lui non ha alcun ricordo di lei. Questa scoperta è un duro colpo per Jana e il peso della realizzazione la fa crollare in un abisso di tristezza e lacrime. Maria, dimostrandosi ancora una volta un'amica leale e premurosa, cerca di offrire conforto a Jana. Ma consolare il cuore spezzato di un'amica non è facile, specialmente con il costante brusio della tenuta sulla prossima unione tra Ximena e Manuel, un promemoria incessante della realtà dolorosa che Jana sta cercando di affrontare. La trama si infittisce, diventando più intensa e emozionante. Il cuore infranto di Jana è il fulcro dell'emozione, raffigurando uno dei momenti più commoventi e angoscianti della storia. La sua sofferenza si riflette negli occhi di Maria Fernandez, che è immersa nella preoccupazione per il destino di Salvador, il suo grande amore. Questo tormento interiore spinge Jana a suggerire a Maria di cercare l'intercessione della signorina Martina, con la speranza che la loro affinità possa risultare utile. Dopo una pausa di introspezione e riflessione, Maria decide di seguire il consiglio di Jana e si rivolge a Martina per ottenere il suo aiuto. Mostrando empatia e comprensione, Martina si impegna nella missione e coinvolge suo zio Alonso. Quest'ultimo, dimostrando il suo potere e influenza, promette di fare il possibile per ritrovare Salvador, offrendo un raggio di speranza a Maria. Nel frattempo, la tenuta è il palcoscenico di scontri e giochi di potere. Cruz e Lorenzo, due personaggi in conflitto, si confrontano in una battaglia di volontà. Mentre Cruz, la Marchesa, vuole escludere Lorenzo dalla tenuta e dalla sua eredità, lui, con determinazione e forza di volontà, insiste che partirà soltanto una volta aperto il testamento del barone. Questo affronto diretto amplifica la tensione nell'aria e il futuro dell'eredità diventa un cardine narrativo. Mentre Lorenzo sembra essere mosso principalmente dall'avidità e dall'interesse economico, altri personaggi sperimentano solitudine e alienazione. Curro, ad esempio, si sente come un estraneo nella tenuta, con Jana, che un tempo rappresentava un legame speciale per lui, ora relegata al ruolo di una semplice domestica. La sua crescente isolamento si contrappone al sollievo di Alonso, che scopre di essere destinatario di una porzione sostanziale dell'eredità del barone. Questa rivelazione porta a una svolta sorprendente. Alonso suggerisce a Manuel di riconsiderare il suo imminente matrimonio con Jimena, offrendo addirittura di annullarlo se lo desidera. Questo imprevisto sviluppo potrebbe riscrivere le dinamiche e le relazioni all'interno della tenuta, mantenendo gli spettatori ansiosi di scoprire come si svilupperanno gli eventi successivi. Nel frattempo, Teresa si sente profondamente colpevole per il suo coinvolgimento nella situazione del barone. Questi sentimenti la portano a vivere un periodo di grande stress e introspezione, creando una situazione tesa nella tenuta. Tuttavia, un incontro inaspettato con Lope offre a Teresa una nuova prospettiva e speranza. Nonostante un recente cambiamento da parte di Gregorio, la maggior parte del personale di servizio appare disposta al dialogo e alla comprensione. Solo Romolo rimane più riservato. Pia, avendo guadagnato la fiducia di Gregorio, suggerisce a Romolo di cercare un approccio conciliante. Sebbene Romolo segua il consiglio di Pia, il rapporto con il nuovo maggiordomo rimane teso. Quest'ultimo appare determinato a mantenere le sue posizioni riguardo a Romolo, aggiungendo ulteriori sfaccettature alla storia. Nell'episodio 89, il Palazzo della Promessa si illumina di gioia in previsione delle nozze tra Manuel e Ximena. Nonostante le sfide incontrate, tutti i preparativi per il matrimonio sono stati meticolosamente organizzati, rispecchiando i desideri di Cruz. Manuel, pieno di determinazione, è pronto a intraprendere questo nuovo capitolo della sua vita con Ximena. Sorprendentemente, nemmeno l'intervento di Catalina, che ha tentato di aiutare Manuel a riacquistare la memoria con l'assistenza di Yana, né l'offerta di suo padre Alonso di annullare tutto, hanno deviato Manuel dalla sua decisione. Le onde tumultuose della trama continuano a fluire, mentre i protagonisti della storia si avventurano nelle tempeste della passione, del conflitto e della redenzione. In una serie di eventi anticipati e aspettati, il matrimonio di Manuel e Ximena diventa una realtà incombente. Nonostante l'opposizione iniziale dei duchi, le circostanze li hanno costretti a rivedere le loro decisioni e a riconoscere l'amore genuino tra i due giovani. Ma mentre la tenuta si prepara per le nozze, le tensioni sottostanti erompono in una serie di conflitti. Lorenzo, apparentemente incapace di gestire le sue emozioni, si rifugia nell'alcol e nella derisione, mettendo Curro in una posizione difficile. La rappresentazione di un giovane che deve mostrare la sua forza attraverso la pazienza offre un contrasto potente ai momenti più intensi della trama. Il conflitto tra Romolo e Gregorio, due maggiordomi con differenze inconciliabili, è un altro punto focale di tensione. E proprio quando sembra che il loro scontro possa esplodere in una violenta colluttazione, Mauro e Pia intervengono, dimostrando che anche nei momenti più intensi l'amicizia e la solidarietà possono trionfare. Ma forse il colpo di scena più potente arriva con Jana, che decide di interrompere la cerimonia nuziale. La sua rivelazione, sottolineata dal biglietto di Manuel, rappresenta un momento cruciale, sospeso tra speranza, passione e tragedia. Questo gesto audace, destinato a cambiare il corso della trama, mantiene lo spettatore sul filo del rasoio, ansioso di scoprire come si svilupperanno gli eventi. Eppure, nonostante le tempeste emotive, sembra che il matrimonio di Manuel e Ximena porti con sé una benedizione finanziaria per la tenuta e per la famiglia in difficoltà. Alonso, con la sua rassicurazione a Catalina, rappresenta una speranza di stabilità nel mezzo del caos. La dote di Ximena potrebbe essere la chiave per risolvere i problemi finanziari che gravano sulla famiglia e sulla tenuta, e promette un futuro di possibilità e di rinascita. La trama, così intensamente intrecciata con passioni, tradimenti, speranze e sorprese, promette di portare lo spettatore in un viaggio emotivo che sfida le aspettative ad ogni svolta. Episodio dopo episodio, gli spettatori sono portati a chiedersi cosa riserva il destino per questi personaggi e come le loro scelte influenzeranno il corso degli eventi futuri. In un turbinio di emozioni e intrighi, i protagonisti di questa avvincente storia si trovano coinvolti in una ragnatela di segreti, passione e vendette. Il matrimonio tra Manuel e Ximena, un evento che avrebbe dovuto segnare l'inizio di una nuova fase, si dimostra invece come un terreno fertile per dubbi e sospetti. Manuel, in una ricerca incessante della verità, comincia a raccogliere dettagli inquietanti che mettono in dubbio l'onestà di sua moglie. Il suo viaggio aereo con Gianna non solo risveglia ricordi sopiti, ma riconfigura completamente la prospettiva di Manuel sulla sua attuale situazione, gettando una nuova luce sul suo rapporto con Ximena. Mentre la tensione si infittisce tra i due sposi, gli scontri tra Romolo e Gregorio raggiungono nuovi picchi di intensità. L'intrigante Petra, sempre attenta alle dinamiche sottostanti, coglie un segreto che potrebbe rivoltare la storia, la gravidanza di Pia. Armata di questa informazione, Petra intende causare turbolenze e il suo, rivelare la notizia alla Marchesa, promette di avviare una nuova serie di eventi tumultuosi. Ma il cuore della storia pulsa con le rivelazioni scioccanti, in particolare quando Cruz svela a Curro l'atroce verità sul passato di Lorenzo. La ferita che questo segreto apre dentro Curro si trasforma in un desiderio ardente di vendetta, promettendo scintille nel proseguimento della trama. Intanto, il misterioso e oscuro passato di Candela si fa avanti in modo inaspettato attraverso una lettera minatoria. Il coinvolgimento del falso sacerdote, padre Camillo, getta luce su segreti nascosti che potrebbero sconvolgere l'intera narrazione. La storia, piena di colpi di scena, segreti e rivelazioni, promette di tenerci incollati alle nostre sedie, ansiosi di scoprire come si sviluppano le vicende dei protagonisti. Per non perdere nemmeno un momento di questo avvincente racconto, iscrivetevi al canale e seguite da vicino le evoluzioni della trama. Grazie e a presto per nuove entusiasmanti puntate della Promessa.